Mercoledì 19 di giugno è suonata la prima campanella sull'esame di Stato 2024, prima prova di italiano uguale per tutta la nazione e così è stato per 3100 studenti della provincia di Pesaro e Urbino. Le tracce hanno detto di un'analisi del testo che ha puntato su Ungaretti e su Pirandello e poi i temi d'attualità che hanno parzialmente rispettato qualcosa che era lecito a tendersi alla vigilia, temi come quelli della guerra, della bomba atomica ma poi anche temi molto frequenti nella quotidianità dei ragazzi come il tema dei social, dei selfie e della comunicazione. Abbiamo ascoltato alcuni pareri all'uscita da questa prima prova d'esame di Stato. Io ho scelto la traccia B1 che era sulla bomba atomica, un po' me l'aspettavo che usciva comunque la traccia sulla bomba atomica, sulla guerra però dai, comunque non mi era preparato in anticipo, ho fatto lì per lì e è andata bene. Non ho fatto chissà che preparazione, era stato un po' tutto lì momentaneo, le cose che mi sono venute in mente però sono riuscita a collegarci sia a cose personali che cose riguardanti la scuola o che sapevo io. C'era una sulla guerra fredda con la bomba atomica che era il test argomentativo, quella un po' ce l'aspettavamo, infatti ce l'avevano detto anche dei nostri prof che probabilmente ci sarebbe stata, però io non l'ho fatta perché non mi piaceva. Io ho scelto la traccia A2 su Pirandello riguardante il progresso. È stata una sorpresa Pirandello come tema, non me l'aspettavo. Siamo stati fortunati, sono usciti sia autori che comunque tracce molto fattibili, se uno comunque vive attivamente nella sua età e si studia, riesce benissimo. Io ho scelto il tema C2 e quindi la traccia, il tema libero che parlava insomma di social network e un po' di attualità. Io ho scelto la tipologia C e ho parlato sul diario, c'era scritta una traccia su come i social hanno un po' cambiato la modalità di scrivere i nostri pensieri sul diario e quindi non è più una cosa segreta visto che adesso i nostri pensieri li espressiamo sui social. Quindi siamo un qualcosa che fa parte della vostra quotidianità? Sì, sì, infatti all'inizio ci siamo preparati più su tipo l'intelligenza artificiale, ma non è uscita quella e quindi... però comunque eravamo lì. Io ho scelto il C1, quello sull'elogio dell'imperfezione. Come mai? Eh, perché riguardava un po' degli aspetti che mi piacevano, quindi riuscivo a fare un tema abbastanza sviluppato senza molti intoppi, mettiamola così. L'attualità quindi di conseguenza era più facile parlare rispetto, per esempio, a fare le tracce quelle iniziali che dovevi anche avere una base di studio. Ho approfondito che c'era in quel diario, c'era Anna Frank, ho approfondito quello che ha fatto lei e non so, mi ha ispirato molto questa tipologia, perché ho approfondito anche con Baudelaire e altri autori. Dizionario in mano, usciti dal tema, intanto il dizionario è servito? Poco, poco che niente, sinceramente, però lo si porta per fare bella impressione, dai. Che tema è stato scelto? È stato scelto la traccia B1, che parlava la storia d'Europa, la guerra fredda, questa cosa qui, il tema storico. Io per il tema ho preparato solamente qualche traccia, come l'intelligenza artificiale, come ci si aspettava, poi non è uscita. Io ho scelto la traccia B1, come lui, sulla guerra fredda, la storia dell'Europa, così, però no, generalmente non ci si prepara. Consegnato il tema, l'esame di Stato prosegue domani, 20 giugno, con la seconda prova specifica per ogni tipologia di istituto. Oggi era il giorno relax, però da domani si inizia ad avere più paura. Il difficile inizia ora, sì, oggi pomeriggio ci prepariamo per la seconda prova, che sarà matematica per lo scientifico, e vediamo come andrà.